Quindi ragazzi il grande momento infine è arrivato, Borderlands 3 è stato annunciato con un trailer anche abbastanza lungo che ci andiamo a vedere ora ora, sono veramente curioso, 3, 2, 1, via! Dammelo tutto, dammelo tutto! Questi sono chiaramente i cattivi che si erano anche visti nel teaser trailer, muy bien, muy bien! E già vediamo un volto noto, e già vediamo un volto noto, Borderlands 3, molto minima la scritta tra l'altro, me l'aspettavo ben più incasinata, ed ecco i quattro protagonisti chiaramente, ognuno che sarà una specifica classe. E con la musica già ci siamo tutti, con la musica già ci siamo in pieno. Ok, quindi Simil Sirena, lei forse? Quello grosso mi sembra Tank. Quindi sempre i cacciatori della cripta. Ok, quindi ci sono anche più personaggi vecchi. Quelli famosi, ecco, mi chiamano così. Esplora i mondi, quella S finale è importante, mondi? Che cazzo è questo coso? Mondi è importante? Mondi potrebbe essere anche un grande colpo. Comunque i veicoli, più tipi di veicoli. Bella sta, ecco qua, eccola qua. Finalmente, mondi esplorabili di diverso tipo, ambientazioni varie, ambientazioni varie, cazzo. Sì, sì! Mi piace, mi piace. Baddies? Li abbiamo, i cattivoni li abbiamo. Quindi questi sono i cattivi, punto. Cazzo, eh? Quindi sono il design dei nemici, ed è già molto figo a partire da questo momento. Veramente molto figo. Tante tipologie di avversari. Come per tu... Come, scusi? Belli baffoni di Brick, i moustache. Moustachios. Moustachios, moustachio. I baffoni. Uh, questa è la bambina, non più bambina, del DLC. Quindi, clap, clap. C'erano... E' lui! Ci sono anche quelli di Tales from the Borderlands, quindi. Hanno messo, tu, hanno fatto il pienone. E' anche miliardi di armi. Armi con le... Armi con le gambe? Li abbiamo. Ok. Beh, vabbè, ovviamente per un gioco del genere doveva essere pieno di armi. Pieno di armi. Come ovvio che sia. Si basa molto su quello. Il loot. Nonostante non sia un gioco basato sul multiplayer. Borderlands 3. Dai. Eccolo. Infatti questa è già più sborona come... come scritta. Eh, vabbè, clap trap. Clap trap è... Come se la tira clap trap. Mi piace, mi piace. Devo dire che come trailer d'annuncio ci sta, ma alla fin fine si capisce che da questo gioco Gearbox segnerà il suo destino e il suo futuro. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto veramente tanto, ragazzi. Figo. Figo, cazzo. Vorrei rubare un minuto di questo video per menzionare l'evento in cui Borderlands 3 è stato annunciato, il Pax East di Boston. Gearbox ha infatti tenuto una conferenza con le sue ultime novità che in termini di errori vari e cringe generale ha raggiunto vette che neanche Konami e i suoi lottatori di wrestling avevano mai neanche lontanamente immaginato. Non c'è stato un minuto in cui qualcosa sia andato bene. Non c'è stato un trailer che andasse oltre i 10 frame. Abbiamo avuto un trucco con le carte durato 10 minuti in cui lo stesso trucco è stato rivelato da una telecamera mal posizionata. Un disastroso iceberg di cui ho voluto giusto scalfire la superficie per darvi un'idea generale. È paradossale che il titolo più importante mai presentato da Gearbox sia stato mostrato durante l'evento in diretta peggio organizzato della storia. Ma tant'è, ce ne faremo una ragione. Ora pensiamo al gioco, partendo però da una premessa. Nel caso in cui non siate particolarmente informati dovete sapere che attualmente Gearbox sta vivendo una fase della sua vita veramente di merda. Per riassumere, il CEO della software house, Randy Pitchford è stato accusato dall'ex legale dell'azienda, Wade Callender di aver rubato 12 milioni di dollari stazionati da 2K proprio per lo sviluppo di Borderlands 3. soldi che sarebbero stati utilizzati per dei festini porno in cui gli invitati si sarebbero denudati per diletto davanti a dei minorenni. E no, questo non è uno scherzo. In realtà questa storia è abbastanza fumosa e non si sa bene dove andrà a parare in futuro. Ma capite da soli il casino che Gearbox sta vivendo al momento. Come rivelato da diversi dipendenti l'area lavorativa che si respira è molto pesante e stressante al punto tale che numerosi lavoratori hanno deciso di licenziarsi e situazioni simili rischiano sempre di avere ripercussioni sul lavoro in corso. Speriamo che non sia così in questo caso specifico ma i timori rimangono. Detto ciò, Borderlands 3. Cosa ci dice questo primo trailer? Beh, parecchie cose in realtà. La serie di Gearbox ha sempre fatto del suo stile tamarro un grande punto di forza e anche in questo caso la situazione non sembra esser cambiata. Borderlands 3 appare come il Borderlands più grande e ricco di sempre e un po' anche grazie al cazzo era ovvio che sarebbe stato così. In primis abbiamo visto un nuovo quartetto di cacciatori della cripta ognuno con le sue caratteristiche peculiari e abilità uniche. Probabilmente le classi saranno le stesse viste nei capitoli precedenti quindi avremo il tank per fare il rambo il soldato per chiamare il bilanciamento lo sniper e la genetica con i superpoteri. Abbiamo potuto dare uno sguardo anche ai due nuovi antagonisti di cui per ora non sappiamo nulla ma soprattutto è stato fatto capire che il cast di personaggi secondari sarà enorme praticamente hanno ficcato da qualsiasi capitolo addirittura da DLC chiunque fosse ancora vivo ma soprattutto si è visto Riss uno dei due protagonisti di Tales from the Borderlands l'avventura narrativa sviluppata da Telltale Games. Questo particolare è molto interessante poiché finiva con un cliffhanger letteralmente si interrompeva a metà non sia mai che proprio con Borderlands 3 scopriremo cosa cazzo si è successo sono molto curioso e interessato al riguardo. Bisogna dire che uno dei punti deboli della serie Borderlands è sempre stata la narrazione e la sceneggiatura abbastanza povera, prevedibile e poco presente in generale una mancanza che però è sempre stata sopperita da un cast di personaggi semplicemente strepitosi sia tra i buoni che tra i antagonisti un connubio di carisma battute, insulti e geniali trovate capaci di conquistare. Ecco, fermo restando che dai personaggi di Borderlands 3 mi aspetto lo stesso livello di follia sopra le righe che tanto amiamo una narrativa più interessante più intrigante non mi dispiacerebbe onestamente ci spero dopo tutto parliamo di un progetto importantissimo per Gearbox in cui sono stati anche investiti numerosissimi milioni quindi una storia più ricca e variegata dai, perché no? sono fiducioso. In tal senso sono molto curioso di vedere se questi due sapranno reggere il confronto con Jack il Bello e ragazzi diciamocelo mi sto scervellando per trovare un nome per il pony di diamanti che ho preso volevo chiamarlo testa di merda in tuo onore sarà dura ah e tra l'altro mi aspetto anche un doppiaggio italiano a tutto tondo e di gran livello visto che considerato che i capitoli precedenti non solo lo possedevano ma erano stati anche doppiati in modo divino open world ma per possibilità lasciate in mano al giocatore cosa abbiamo scoperto? beh in primis ci è stato confermato che il titolo sarà composto da diversi mondi esplorabili e le ambientazioni visionate fino ad ora mi sono parse non solo ben diversificate tra loro ma anche molto vaste e ricche di dettagli il che sarebbe un gran bel passo avanti rispetto ai capitoli precedenti che peccavano molti in tal senso effettivamente tutti i Borderlands hanno sempre sofferto per ambientazioni alquanto spoglie ma soprattutto monotone in particolar modo durante la seconda metà dell'avventura quando ormai già si era esplorato tutto l'esplorabile ecco quanto visto mi fa bel sperare tanta diversità palette cromatiche completamente opposte tra loro deserti metropoli lagune onestamente non mi aspetto che si possa volare non mi aspetto cioè una navetta spaziale guidabile con cui spostarsi di mondo in mondo credo vedremo un qualche sistema di simil trasporto o poco più la questione sui veicoli però rimane quanti ce ne saranno come si guideranno il trailer fa bel sperare anche in tal senso al posto della sola jippona dei capitoli passati questa volta sembrerebbero esserci molti più veicoli e si spera molte più armi applicabili su di essi compresa questa moto gigante che mi ha tanto ricordato la moto del generale grievous nella vendetta dei sit curioso di testarne anche la manovrabilità chiaramente mi aspetto che sia spiccatamente arcade ma magari un mezzo potrebbe rivelarsi più facile da guidare rispetto a un altro e viceversa vedremo vedremo in termini di gameplay mi aspetto invece una struttura ludica molto in linea con quanto ho visto in passato senza troppi stravolgimenti tanti nemici tanti proiettili una marea infinita di armi utilizzabili ognuna con le sue caratteristiche i suoi malus e i suoi pro chiaramente vedremo anche un albero delle abilità missioni secondarie a non finire e tante piccole idee sparse che sapranno dare ancor più personalità al tutto Borderlands 3 deve essere una pura cacciara violenza a tutto spiano esplosioni in ogni dove questi robottoni mi fanno già presagire possibili miracoli in termini di genocidi come detto anche durante la reaction la serie Borderlands ha sempre puntato parecchio sul loot il fatto che le armi abbiano colori diversi in base alla rarità rende chiaro quanto il titolo si avvicini per certi concetti ai Destiny Anthem o The Division che tanto conosciamo e sicuramente anche questo capitolo non sarà da meno aspettatevi quindi di dover esplorare ogni centimetro delle mappe per trovare casse segreti con cui riempirvi le tasche e preparatevi ad affrontare nemici miniboss e compagnie varie da fare a pezzi per rubarne l'armamentario punti esperienza danni delle armi invisibili su schermo migliorare continuamente il proprio equipaggiamento per eliminare nemici sempre più grossi ecco cosa mi aspetto dalla nuova creatura di Gearbox inutile dire che do per scontata la presenza di una modalità che permetta di giocare l'intera avventura in multiplayer sia online che locale in verità a me non è che me ne freghi più di tanto tutti i Borderlands li ho sempre finiti per intero giocandomi li per i fattacci miei ma capisco chi invece vuole questa caratteristica questa possibilità aggiuntiva è un elemento in un certo senso anche imprescindibile uno dei fiori all'occhiello della serie altro elemento importante del gioco sarà legato proprio ai nemici ma in tal senso non sono affatto preoccupato non solo i capitori passati del brand hanno sempre saputo mettere in scena un character e art design splendido ma già in questo primo trailer ho potuto osservare alcune creature che mi hanno fatto battere il cuore in termini di bestiario mi aspetto una vastità di nemici enorme tutti con i loro punti di forza e debolezze da dover sfruttare per avere la meglio fortunatamente Borderlands 3 sembra avere stile da vendere voglio dire come si può non amare un gioco simile scherzi a parte questo primo video ha saputo effettivamente mettere in mostra una produzione il cui carisma sembra poter toccare le stelle anche grazie a uno stile grafico in self shading che ha sempre saputo fare la sua porca figura in verità tecnicamente parlando i Borderlands non sono mai stati tutto sto splendore e anche questo Borderlands 3 non sembra voler puntare a settare nuovi standard ma il lavoro nello stile artistico che lo contraddistingue potrebbe tranquillamente sopperire a questa magagna da quel poco che abbiamo visto fino ad ora l'opera di casa Gearbox mi ha insomma convinto possiamo dire che è stato amore a prima vista già da ora il titolo si è rivelato capace di mostrare con forza le sue qualità abbiamo dovuto aspettare anni e anni di silenzio ci siamo beccati le collection gli spin off le versioni portatili quelle VR ma alla fine ce l'abbiamo fatta ora non dobbiamo far altro che attendere speranzosi il giorno in cui potremo tornare a crociolarci nel sangue dei nostri nemici io però nel mentre non posso far altro che ringraziarvi per l'attenzione e salutarvi noi ci rivediamo in un prossimo video per l'attenzione